Sono alla 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Mi trovo nel luogo dove tutto ha inizio. Il recarpete della mostra incomincia dal pontile dell'Eccelzior, quando i motoscafi attraccano all'Hotel de Vips. Vi farò scoprire il cuore e l'anima di questo evento. Percorrendo il corridoio che state vedendo, in mezzo a sogni, speranze, paure, scorre davanti il film della vita degli attori, che in questi metri hanno vissuto tensioni ed emozioni, da cui dipende un'intera carriera. Di lì a poco saranno acclamati da fans davanti al Palazzo del Cinema e abbagliati da flash dei fotografi. Il Festival di Venezia è il primo evento internazionale di quest'anno, organizzato dopo il lockdown e ancora in fase di allerta Covid ed è proprio per questo motivo che deve essere considerato come un enorme segnale di ripresa del nostro Paese e di speranza per una nuova rinascita all'insegna del bello e del buono. Sono orgoglioso di poter contribuire a rendere anche la Toscana protagonista di questa ripresa attraverso la presentazione dei prodotti di qualità. Infatti, come ogni anno e da oltre sei anni, sfileranno sul recarpet anche le eccellenze toscane, che io ho l'onore e l'onere di presentare e far conoscere a questo l'ultre parco scenico internazionale. Ho già fatto un'anteprima dei prodotti davanti al Palazzo del Cinema e questi stessi prodotti sono stati degustati durante l'evento nel calendario ufficiale del Festival a Villa Ines. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!